Luca Polletta, oggi per te è una giornata molto importante, hai firmato il primo contratto da professionista con l'Ascoli, un contratto fino al 30 giugno 2024, quali sono le tue prime sensazioni? Innanzitutto ti ringrazio e soprattutto voglio ringraziare la società Ascoli, in particolare il patron Pulcinelli e il direttore Valentini che mi hanno concesso questa opportunità. Ormai è il quarto anno che mi trovo qui ad Ascoli, ho iniziato a giocare con l'Under 15, il mio primo campionato nazionale per poi fare l'Under 17 sotto età, l'anno scorso nella prima parte di stagione sono stato aggregato in prima squadra per poi finire la stagione in primavera. Quest'anno sei in pianta stabile in prima squadra con Mister Sottil, sei quasi sempre convocato, tutti i giorni svolgi i tuoi allenamenti, quindi qual è il tuo rapporto con il Mister e soprattutto con Amedeo Pedrazzuolo che è il preparatore dei portieri? Ringrazio entrambi i Mister, innanzitutto mi hanno dato questa possibilità di stare in pianta stabile qui in prima squadra, ma mi trovo bene con tutti e due, ma in particolare la parte che riguarda me è Mister Petrazzuolovi, essendo un portiere, ma io e lui abbiamo un buon feeling, ci troviamo bene e lui ha tal grande stima in me. Quali indicazioni ti dà durante gli allenamenti? Mi aiuta molto, mi regge anche se è molto pignolo, ma ci troviamo bene. Ti alleni insieme a due grandi portieri dell'Ascoli, Nicola Leali e Enrico Guarna, come ti trovi con loro e soprattutto loro che sono molto più grandi di te, che tipo di indicazioni, di consigli ti danno quotidianamente? Sì, diciamo che questa è una fortuna, allenarsi con due grandi portieri di esperienza come loro, mi sperano ad andare sempre di più, mi aiutano e soprattutto mi insegnano questo questo mestiere. Grazie, in bocca al lupo! Tappi!